Buonasera a tutti, siamo di nuovo dall'hotel Melià al Milano iFidelity, si è conclusa, si sta concludendo, in realtà sono le sei e mezza, si sta concludendo la prima giornata e posso chiedere un primo bilancio ai nostri ospiti che ci ospitano a loro volta perché sto parlando di Marcello Canè, di audio quality, e di Fabio De Angelis che è responsabile della showroom a Milano 2 di audio quality, teatro recentissimamente dell'evento che abbiamo fatto con la BenQ Italy e con il V7000 che è anche qui e quindi volevo chiedere a tutte e due, cominciamo magari da Marcello, un bilancio di questo evento perché so che si è arrivato e deciso di partecipare quasi Sì esatto, senza quasi Sì esatto, senza quasi E' una sala gigantesca, bellissima, e fino a pochi minuti fa era Un campo da tennis era Una roba pazzesca Un campo da calcio Un campo da calcio In realtà poi adesso vedete le immagini che abbiamo girato pochi minuti fa, veramente piena piena di gente, è una manifestazione che a quanto pare ha avuto un successo laboroso, con file interminabili, non solo fuori come potete vedere, ma anche all'interno Per i limiti di contingentamento all'interno delle sale, purtroppo sono regole con cui dobbiamo fare i conti, quindi ti chiedo subito Marcello un bilancio di questa prima giornata No, il bilancio direi validissimo, ottimo, l'affluenza molto elevata, molti contatti direi assolutamente positivo, visto anche due anni di assoluto fermo totale per tutto, non posso dire nulla di negativo Mi sei contento? Mi sei contento? Penso anche dello spazio Spazio meraviglioso, enorme, ci siamo fatti un discreto masto a riempire tutto, quanti in una giornata e apprezzare tutto Ma anche perché la cosa particolare è che alla fine tu avete una saletta dedicata, con un impianto bellissimo, che poi magari descriveremo E questa era una sala per esposizione statica, che magari poteva sembrare quasi in secondo piano Invece secondo me è quella che ha avuto più successo, perché hai alla fine 5-6 impianti in funzione, in stereofonia Hai due proiettori a tiro corto, un display 77 pollici, due postazioni per le cuffie 83 scusami, due postazioni per le cuffie, più l'approfondimento solid steel, custom installation Sì sì, abbiamo portato il negozio a Milano sostanzialmente Poi suona anche bene, non credevo, infatti quando ho detto fare uno spazio statico e basta, invece suona bene alla fine È venuta una cosa bella Per fare qualcosa di più l'anno prossimo Ma quest'anno, come diceva Marcello, avevamo un grande dubbio quante persone sarebbero arrivate dopo la ripartenza, eccetera Quindi insomma era complicato Green pass, limiti Green pass, esatto, la paura di ritrovarsi in queste situazioni, di eventi Invece devo dire che è stato un successo veramente eccellente Non ci aspettavamo chiaramente di avere anche noi tutta questa situazione, tutte queste persone ed effettivamente anche questa stanza che era un po' più diciamo statica, se vogliamo Noi siamo più abituati ad avere le stanze con lo schermo, eccetera Di là, con l'8 e 90, con il Duster 9, con Envy, abbiamo veramente saturato ogni tre quarti d'ora Ogni mezz'ora Poi alla fine sì, so che all'inizio le sessioni erano un'ora Abbiamo calato il tempo Poi si può vedere se sono mezz'ora Per far entrare più gente possibile Per troppo un tempo minimo Per spiegare tutto ci vuole Per spiegare tutte le cose Perché è abbastanza complesso l'impianto C'è l'Envy, c'è il Sony C'è il sistema multicanale con i diffusori d'Ali C'è il NAD C'è il NAD C'è il NAD, insomma sì, è abbastanza complesso Certo Quindi benissimo Però so che voi sarete anche a Roma Cioè da Bologna Ci stiamo lavorando Siete anche a Roma Spoiler Ci stiamo lavorando Ci stiamo lavorando Sto aspettando notizie Ah notizie sulla disponibilità Gli spazi Ci stiamo lavorando Dice questo rischio di rivederci di nuovo a Roma Vabbè io lo spero Perché vuol dire che sarà un'edizione Ancora più interessante rispetto a quella di due anni fa Che è stata comunque molto importante Soprattutto per afflusso di pubblico Benissimo Quindi vi ringrazio Ci aspetta una giornata importante anche domani Che so addirittura potrebbe esserci Addirittura più gente Sarà un bel problema E bene Ci fossero tutti i giorni delle fiere così Sarebbe fantastico E certo Benissimo Vi ringrazio Ciao Fabio A presto Ciao Ciao Marcello E a Roma Speriamo Di rivederci Grazie a tutti i giorni